una goccia d'acqua sale i gradini della scala la senti disteso in letto nel buio ascolto il suo arcano cammino come fa saltella tic tic si ode a intermittenza poi la goccia si ferma e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva tuttavia sale di gradino in gradino viene su a differenza delle altre gocce che cascano perpendicolarmente in ottemperanza alla legge di gravità e alla fine fanno un piccolo schiocco ben noto in tutto il mondo questa no piano piano si innalza lungo la tromba delle scale lettera e dello sterminato casamento non siamo stati noi adulti raffinati sensibilissimi a segnalarla bensì una servetta del primo piano squallida piccola ignorante creatura se ne accorse una sera a ora tarda quando tutti erano già andati a dormire dopo un po non seppe frenarsi scese dal letto e corse a svegliare la padrona signora sussurrò signora cosa c'è fece la padrona riscuotendosi ma cosa succede c'è una goccia signora una goccia che viene su per le scale che cosa chiese l'altra sbalordita una goccia che sale i gradini ripete la servetta e quasi si metteva a piangere va 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 imprecò la padrona sei nata torna in letto marsh hai bevuto ecco il fatto vergognosa è un pezzo che al mattino manca il vino nella bottiglia brutta sporca se credi ma la ragazzetta era fuggita già rincantucciata sotto le coperte chissà che cosa le sarà mai saltato in mente a quella stupida pensava poi la padrona in silenzio avendo ormai perso il sonno e ascoltando involontariamente la notte che dominava sul mondo anche lei udì il curioso rumore una goccia saliva le scale positivamente gelosa dell'ordine per un istante la signora pensò di uscire a vedere ma che cosa mai avrebbe potuto trovare alla miserabile luce delle lampadine oscurate pendule dalla ringhiera come rintracciare una goccia in piena notte con quel freddo lungo le rampe tenebrose nei giorni successivi di famiglia in famiglia la voce si sparse lentamente e adesso tutti lo sanno nella casa anche se preferiscono non parlarne ora molte orecchie restano tese nel buio quando la notte è scesa a opprimere il genere umano e chi pensa una cosa chi ha un'altra certe notti la goccia tace altre volte invece per lunghe ore non fa che spostarsi su su si direbbe che non si debba più fermare battono i cuori allorché il tenero passo sembra toccare la soglia meno male non si è fermata eccola che si allontana tic tic avviandosi al piano di sopra so che gli inquilini dell'ammezzato pensano di essere ormai al sicuro la goccia essi credono è già passata davanti alla loro porta né avrà più occasione di disturbarli altri ad esempio io che sto al sesto piano hanno adesso motivi di inquietudine non più loro ma chi gli dice che nelle prossime notti la goccia riprenderà il cammino dal punto dove era giunta l'ultima volta o piuttosto non ricomincerà da capo iniziando il viaggio dai primi scalini umidi sempre oscuri di abbandonate immondizie no neppure loro possono ritenersi sicuri al mattino uscendo di casa si guarda attentamente la scala semmai sia rimasta qualche traccia niente come era prevedibile non la più piccola impronta al mattino del resto chi prende più questa storia sul serio al sole del mattino l'uomo è forte è un leone anche se poche ore prima sbigottiva o che quelli dell'ammezzato abbiano ragione noi del resto che prima non sentivamo niente e ci si teneva esenti da alcune notti pure noi odiamo qualcosa la goccia è ancora lontana è vero a noi arriva solo un ticchettio leggerissimo tuttavia è segno che essa sta salendo e si fa sempre più vicina anche il dormire in una camera interna lontana dalla tromba delle scale non serve meglio sentirlo il rumore piuttosto che passare le notti nel dubbio se ci sia o meno chi abita in quelle camere riposte talora non riesce a resistere sguscia in silenzio nei corridoi e se ne sta in anticamera al gelo dietro la porta con respiro sospeso ascoltando se la sente non osa più allontanarsi schiavo di indecifrabili paure peggio ancora però se tutto è tranquillo in questo caso come escludere che appena tornati a coricarsi proprio allora non cominci il rumore che strana vita dunque e non poter fare reclami né tentare rimedi né trovare una spiegazione che sciolga gli animi e non potere neppure persuadere gli altri delle altre case i quali non sanno ma che cosa sarebbe poi questa goccia domandano con esasperante buona fede un topo forse uscito dalle cantine no davvero e allora insistono sarebbe per caso una allegoria si vorrebbe per così dire simboleggiare la morte o qualche pericolo o gli anni che passano niente affatto signori è semplicemente una goccia solo che viene su per le scale o più sottilmente si intende raffigurare i sogni le chimere le terre vagheggiate e lontane dove si presume la felicità qualcosa di poetico insomma no assolutamente oppure i posti più lontani ancora al confine del mondo ai quali mai giungeremo ma no vi dico non è uno scherzo non ci sono doppi sensi trattasi ahimè proprio di una goccia d'acqua a quanto è dato presumere che di notte viene su per le scale tic tic misteriosamente di gradino in gradino e perciò si ha paura grazie a tutti